alla cacca dal vaterale di palermo il vaterale di palermo e con l'arte chiara le scone di si greco romane le strane di si greco romane le scone diicie greco romane l'arte chiara il missone ha l'arte gotica adesso aggiorno i chiari diresa con un'altra inviata spesale, stava a Roma. E la nostra inviata ci ha detto, ci ha riparito, che qui a Roma ci sono soltanto vecchi e antichi cose di mille anni fa, perché le cose millenove sono nuove. Esatto, questo stesso compromesso lo troviamo anche nella Ara Pascix Augustate. Nel 198, monumento c'è il fatto della pittoria di Augusto e della pace stavista dal suo impero, facciamo la linea al nostro inviato. Ora basta con della storia, attacchiamo un po' di... Alla cazzo! Ora parliamo un po' di... Parliamo un po' di... facciamo un momento di pubblicità. Di pubblicità? Zucca di un zucca frizz. La chiamenella che ti succa. La chiamenella che non è una chiamenella, ma è una ciuma. Ma non è neanche una ciuma. Zucca frizz! Zucca di tutti un zucca frizz. Alla venta. Alla liquirizia. Alla aranciata. Zucca frizz. Aranciotto, la paranciata che non sa di chinotto, ma sa di succhiotto. Giusto? È buonissimo. Ed ecco di torniamo al nostro news. Oggi intervistiamo. C'è della malavita di Palermo. Ecco, il nostro inviato. Buonasera. Siamo davanti al corso della malavita, dietro le sbarre. Vorremmo fare alcune domande al corso della malavita. Possiamo? Sì, prego. Ma come non si è entrata in cella? Caccia da cagos, no? È vero che io fai un caffè. Vuole qualche cosa. Grazie, grazie. Così, caccia di reale, può aprire qua. Grazie, siamo entrati dentro la cella. Sogno che c'erriano. Ho messo a sacrami che mi sapevo non ho lato. Scusi, posso dare la malavita? Ma perché hai in caccia? Niente, a me non ho preso. Io non l'ho fatto niente. Mi ha già pieno innocente. Avevo preso un paio di ostaggi. E niente, ma non è capo. Mi scusi, c'erriano? Ho messo a sacrami che ha con laico. Siamo troppo sicca. Che c'erriano? So che siano. È una bravissona. È una compara. Oh, ma dai, pensami l'ora, tu, eh. Se non ti faccio niente, che caccia. C'è, ma bella bene se ne faccio niente. E poi tra ognuno, oggi, anni, da un anno, è bai! Ma va che fai? Ora parliamo con il superambiato speciale. Ciao, per l'altro.